Con la luce divina che mi illumina 76 di 78 Abbiamo appena finito i doppiaggi adesso con Logan Sargent doppiato da Lando Norris Con la ragazza di Leclerc che sta a sminchiare i braccialetti Ragazzi manca poco Allora 76 di 78 Ogni cosa è fondamentale in questo momento Ok Allora 77 Asso il traguardo Leclerc che è 77 E vedo anche Fernando Alonso Mi sa che deve essere doppiato Mi auguro di no perché sarebbe una tortura adesso pure Alonso Una tortura perché vedo Sargent dietro Ma è impossibile che dobbiamo doppiare pure Alonso Oh mamma mia O era Stroll Sì quella era Stroll sicuramente Stroll con Alonso che gli ha fatto trenino Poi è stato buccato Stroll perché l'hanno messo dietro ai doppi Cioè si è fatto doppiare praticamente a pit stop Quindi non poteva neanche più spingere Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen, Hamilton Sono ad Albon Gasly Ristabiliamo l'ordine Il primo giro un pandemonio perché C'è Sainz che ha foratura perché fa un leggero contatto con Piastri Quindi inizia subito male Poi dietro si cannonano Magnussen, Perez e Hülkenberg Con Hülkenberg totalmente incolpevole E con Magnussen che Io non so se è colpa di Magnussen oggettivamente Perché là viene stretto totalmente da Perez E che cazzo può fare? Perez ci aveva ancora di più Certo doveva magari già alzare il piede Sapendo che superare a Monaco è difficile Però non vedo totalmente colpevole Non vedo totalmente colpevole cosa? Magnussen? E poi c'è Ocon che va a cannonare Gasly Ocon che si ritira E Gasly che può continuare per sua fortuna E allora adesso qua Alla Rascas Charles Leclerc Rascas per Leclerc E va sul traguardo Inizia l'ultimo giro Inizia l'ultimo giro sul volume Sul volume Aspetta che Lo mettiamo alla fine 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 Con Sainz che ha di RS di Piastri Non ci può provare Non ci proverei mai Con Leclerc Adesso qua passa Chiude il primo settore Ma questa è la curva Del Mirabù se non sbaglio Per poi andare al Tornantino Adesso ragazzi Non mi vengono neanche più In nominare le curve Clamorosamente Li so praticamente tutti Quelle di Monaco Ma non mi vengono più Adesso clamorosamente Adesso quella prima Mi pare il pescatore Come il ragazzo si chiama A mettere Su quella Sul tunnel Sulla galleria Che porta qua Poi è la chicane del porto Questa è la curva Che si fa qua In quarta Per poi andare Alla chicane Delle piscine Se non sbaglio Non mi ricordo più Un cazzo ragazzi Piscine So queste Aspetta La Rascas La Rascas Alla All'Antonino Guess Charles Leclerc In predest Sì 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 cazzo Sì Vince Leclerc Davanti a Piastre Sainz Sì Cazzo Finalmente DNF DNS Quarto Sesto Primo C'è Leclerc Leclerc c'è Vince Il predestinato Vince Il Gran Premio Di Monaco Prima Doppietta a podio Perché c'è Sainz Terzo Secondo Gliastri Quarto Imbottigliato Sainz Tra le due Leclerc Quarto Norris Sainz Bellagare Doppietta La famiglia Leclerc Leclerc c'è Vince We won We won He's crying He's crying Come on guys Come on We won in Monaco We won in Monaco Come on guys Come on Porca buttana Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Sto stronzo Mi so cagato addosso Per 78 giri Ho paura E ho avuto ancora più paura La ripartenza Sono andati tutti calmi Ma oggi è vittoria Ferrari Torna a vincere la Ferrari Dal 2017 Che non vincevamo A Monaco Doppietta Ferrari Vettel Raikkonen Con Raikkonen Che partì in pole position E Vettel Che andò a concludere la gara In prima posizione Quando ci giocavamo il mondiale E adesso Leclerc Passa Secondo nel mondiale E noi consolidiamo Il secondo posto mondiale Andando alla ricerca Di Red Bull Perché first up Ha inconcludo ovviamente Solo sesto Perez fuori dai punti Perez ritirato Stiamo ricocendo tanto Vogliamo il podio Voglio quella cazzo di coppa Di Leclerc Driver of the day Di Charles Leclerc Io ho votato ragazzi Valtteri Bottas Perché ha fatto un suo passo Avessi visto Sergiant che l'ha fatto Avrei votato lui Ragazzi La lacrimuccia È scelta pure a me Perché Fuck Finally We've done it We've done it Let's go man Let's go Let's go E noi deciso Se fare questo video Perché Volevo provare A godermela Da solo O Comunque godermela Ma avere il ricordo Perché io ogni tanto Ragazzi Mi viene a guardare Tipo quello del GP d'Austria Che proprio quello È a liberatorio Me lo ricordo Il post gara Ragazzi Torniamo a commentare Una vittoria da Ferrari Col Gott Che ritorna Nel weekend Giusto Agevolata La qualifica Di merda Di Di Verstappen Ma è stato Il weekend Perfetto Per Per Primo Nell'FP2 Primo Nel Q2 Se non sbaglio Primo Nel Q3 E prima Ragazzi Incredibile Non ci credo Non ci credo Torna Vince Vinceva proprio Da quell'Austria 2022 Da là Erano arrivate Solo due vittorie Ferrari Una A Singapore L'anno scorso E l'altra In Australia Ma finalmente Abbiamo scolfitto La maledizione Andiamo a risultare Andiamo 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 Come on